La situazione in Piazza della Badia sta diventando insostenibile, è quanto affermano i rappresentanti del Comitato Piazza della Badia, che lo ricordiamo si è costituito lo scorso 21 settembre. Siamo esasperati, purtroppo è come Comitato Spazio al Centro, è un anno che chiediamo di intervenire, ormai la situazione è chiaramente sfuggita di mano, perché lo dimostrano la situazione di ieri sera, ma anche della settimana scorsa. Noi chiediamo che da tempo ci sia un controllo sulla vendita di alcol ai minori e l'abuso di alcol che viene fatto da parte di giovanissimi, che altro dire? Il problema è quello legato alla somministrazione di alcol, da cui poi la situazione degenera e crea delle circostanze, delle situazioni come quella di ieri sera. Sì, assolutamente. La situazione è molto più grave di quello che, se il vice sindaco Tanti e il sindaco hanno proposto di intervenire con i vigilantes, credo che non si rendano conto di quanto è grave la situazione, da quello che mi dicono, anche in altre parti della città, ma io posso testimoniare insieme agli altri residenti qui per Piazza della Badia, dove è diventata insostenibile, sia per noi residenti, ma anche per gli altri esercizi commerciali che tentano di lavorare in questa situazione.